Di che squadra sei? Della Lazio! Da magica! Un pronostico per il derby! Ovviamente vincemo noi, Coppa in faccia e un'altra volta 71 Lulic. E quando te passa? Guarda, il pronostico non te lo posso dire perché so scaramantico. Però sicuramente al novantesimo, mi fio, se ti troverà pieno dei limiti. Un tuo difetto! Che sono troppo basso e non riesco ad alzare la Coppa in faccia a papà per bene. E il più grande difetto è mi fio. Cioè non solo è un coglione, però peggio, è pure laziale. Di qualcosa all'altro che non gli hai mai detto. E l'altra volta non c'era la cartigenica e mi sono purito con la tua sciarpa della Roma. Che in realtà il suo grigietino Filippetto non è scappato. L'ho ammazzato io per sbaglio. Invece so seduto sopra, pensavo fosse il telecomando e invece... Insulta l'altro in modo pesante. Romanista vegano. Laziale Barbara D'Urso. Romanista Herpes. Laziale Atac. Romanista Calzino Dispari. Laziale Compito a Sorpresa. Salutatevi in modo affettuoso. Anche se sei romanista e per di sempre, arrivi sempre secondo, per me sei il numero uno papà. E ti voglio bene. Anche se sei un bambino speciale con gusti particolarmente discutibili, papà ti vuole lo stesso bene. Però se provi a di qualcosa durante il derby o dopo il derby, papà te vende su ebay. Promesso. Belli regà, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete il video. Se vediamo al prossimo video. Belli chicchi. Belli chicchi. Belli chicchi. Belli chicchi. います.